Buongiorno, sono Maria Grazia Marcelli. Sono una neofita di questo settore, ma il ruolo di venditore di polizze mi è sempre andato molto stretto, come mi sono andati stretti sempre i luoghi comuni su questo tipo di attività. Io non mi sono mai sentita davvero una venditrice. Quello che mi mancava tanto in questo percorso era la formazione. Il fatto che non esistesse e che non esista ad oggi una scuola che formi gli assicuratori a svolgere quello che invece ritengo ad oggi un importantissimo ruolo sociale. Ecco, la scuola di assicuratore facile per me ha rappresentato tutto questo. Finalmente un approdo, finalmente un percorso formativo importantissimo, difficile, perché devo dire che mi ha messo estremamente alla prova. E non solo dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista personale. Ho dovuto veramente spogliarmi di tante certezze e ripartire da zero, ripartire da capo. Ma quello che ho trovato è stato non solo un nuovo senso a questa professione e la possibilità di riappropriarmi veramente di un ruolo sociale fondamentale, ma mi ha riaperto in un momento complicato e difficile come questo, la visione su nuove prospettive e nuovi obiettivi. Quindi tanta consapevolezza e tanta formazione. E davanti a queste cose spero veramente ad oggi di avere le capacità per mettere a terra tutto quello che la scuola è stata in grado e capace di offrire, che è veramente tantissimo. Grazie.